La politica si infiamma all'Aquila sulla costruzione di tre nuovi insediamenti commerciali di media distribuzione nell'area Ovest. Il PD, per bocca del consigliere Stefano Albano, si chiede come il progetto possa dirsi compatibile con il piano del commercio del 2020, che prevede un giro di vite sui centri commerciali a favore dei negozi e delle botteghe del centro e di prossimità. Per Albano l'intervento riguarda una porzione di spazio già servita abbastanza, mentre servirebbero misure per rivitalizzare il tessuto economico locale, rilanciando il commercio di prossimità. Io ho avuto informazioni negli uffici del comune che si stava ipotizzando un intervento che riguardava tre progetti, tre insediamenti per la media distribuzione e l'assessore dà una clamorosa conferma, e cioè dice sì, ci sono tre progetti, lui li definisce progetti di riqualificazione urbana volti alla media distribuzione, ma al di là dei giri di parole è quello che io ponevo sulla stampa. Ecco, rispetto a questo noi pretendiamo che si faccia chiarezza e pensiamo che sia una cosa più che legittima da chiedere. Vogliamo che l'assessore e il sindaco vengano in Consiglio Comunale a relazionare, perché scelte di questo genere prima di tutto devono essere discusse alla città e devono essere il più possibile trasparenti. Lo scontro però si accende tra il PD e la Lega, perché l'assessore all'urbanistica Daniele Ferella è immediatamente replicato, spiegando innanzitutto che non sono centri commerciali e che al vaglio della Giunta ci sono tre progetti che non riguardano tre nuovi centri appunto, ma la riqualificazione urbana di un'area per riorganizzare spazi per pendolare taxi, la ristrutturazione di alcuni fabbricati fatiscenti per dare il via a interventi di media distribuzione, cioè supermercati e servizi di vicinato su aree già indicate con congola destinazione del piano regolatore. Sono interventi su terreni che hanno quella destinazione, di conseguenza non possiamo negare l'intervento, quello sul quale ci siamo invece concentrati è cercare di, in accordo con i proponenti, di realizzare il più possibile standard pubblici che siano utili in quella zona di città. Sappiamo bene quale sia il problema dei pendolari con l'assenza di parcheggi, sappiamo bene quale sia il problema dei tassisti, quindi cercando di risolvere questo, anche degli altracchi di tutte quelle che sono le corse extraurbane di questa città. Quindi si sta lavorando anche sotto questo profilo. Io ringrazio anche i privati in realtà che avrebbero potuto anche fare meno, invece si sono messi a completa disposizione perché anche loro tengono a questa città essendo imprenditori aquilani. Le aree sono quelle alle spalle della fermata tra la statale 17 via del Farnese, l'ex pastificio alle spalle dell'hotel My Suite, vicino alla caserma Pasquale, e uno spazio tra la statale 17 e via Salare Antica Est. Grazie. Grazie.